Con noi Paolo Genovese, quest'oggi qui a Regione si presenta la neo, possiamo dire, nata Fondazione Umbra Film Commission. Quali sono gli intenti di questa fondazione? Lei è Presidente, insomma, sicuramente non si poteva sperare di meglio. Quali sono i vostri progetti? I progetti ovviamente ce ne sono tanti, entusiasmo ce n'è tanto. Il primo, che è veramente il compito istituzionale fondamentale di una Film Commission, è quello di attrarre produzioni cinematografiche e televisive, cercando di far conoscere tutte le potenzialità della Regione, cercando ovviamente di mettere in pista dei finanziamenti importanti, ma soprattutto delle agevolazioni, perché oggi la scelta di un territorio rispetto a un altro è data non soltanto dal finanziamento che quel territorio dà, ma anche da tutta una serie di facilitazioni accessorie che rendono il poter girare flessibile. La parola d'ordine oggi è flessibilità che nei grandi centri è molto difficile, in centri più piccoli è più facile. E in più ovviamente far conoscere le bellezze, i paesaggistiche, i borghi, le città, Perugia, tutte le potenzialità di queste Regioni. Quindi la speranza è di avere più film, più serie TV fatte in Umbria. Il secondo punto a cui teniamo tantissimo è la didattica. La Film Commission può mettere in piedi una scuola di cinema, che è qualcosa che manca, manca in una Regione che ha una profonda vocazione didattica. Perugia è una città che ha l'università, l'università per stranieri, la scuola di giornalismo, l'istituto d'Agraria, cioè veramente copre tutti i campi della formazione, tranne quello cinematografico. Quindi penso che per tutti i giovani Umbri che amano questo settore, non necessariamente soltanto l'attore, l'attrice, il regista, ma anche tutti i settori tecnici, dalla fotografia al montaggio ai costumi, è un'industria enorme e quindi ha grosse potenzialità. Quindi poter fare una formazione, una didattica in Regione permetterebbe ai giovani Umbri di non dover spostarsi in altre città, di solito Roma, insomma che è straffollata di scuole. E infine un festival, un festival di cinema è importante non soltanto ovviamente per portare cultura cinematografica nella Regione, ma anche per attrarre attori, registi, produttori durante queste grandi manifestazioni che diventano un modo per condividere progetti, per vedere film, per fare incontri, ma anche per far conoscere territorio. Si parte sicuramente la grande. Quali sono i progetti? È sicuramente una grande impresa a realizzare questa fondazione e anche per i suoi intenti? Assolutamente sì, è un progetto che abbiamo voluto e abbiamo iniziato subito a lavorarci sin dal nostro insediamento, voluto fortemente anche dalla Presidente Tesei. Riteniamo che l'Umbria sia la location ideale per poter ospitare comunque grandi anche produzioni che possono venire comunque nel nostro territorio. Abbiamo visto comunque anche nel corso degli anni produzioni che sono state comunque girate in Umbria, film che sono stati girati nella nostra Regione e che hanno portato una visibilità importante. Il nostro territorio è ricco di borghi, di storia, di cultura, di paesaggi, quindi credo che sia davvero il luogo ideale per poter ospitare insomma delle produzioni importanti.